Il re dei fornelli è a disposizione dei ristoratori che dopo il lockdown stanno vivendo un momento difficile, all'insegna della ripartenza certo, ma anche della paura e dei dubbi. Nicola Pepe, vincitore di Hell's Kitchen Italia 2018, il reality show che vede cuochi professionisti sfidarsi con prove di cucina e servizio al tavolo, scende in campo per promuovere gratuitamente il lavoro dei suoi colleghi attraverso i social. Io molto semplicemente offro il mio profilo Instagram, il mio spazio Instagram, dato che ho tantissimi follower, a disposizione di tutti i ristoranti in Italia che hanno bisogno di una sponsorizzazione e lo faccio totalmente gratuito. Dato che dopo il Covid molti ristoranti sono andati in, chiamiamolo in down, quindi in basso, allora voglio dare un'interfaccia maggiore e anzi non è solo un'interfaccia, è anche uno sprono, è una carica che sto dando a tutte le persone, non solo ai ristoratori, ma anche ai clienti per iniziare la vita e continuare, dato che sono innamorato del mio paese. Direttamente su Instagram ci trovate tutti i miei contatti, anche in direct io rispondo a tutti quanti perché devo dare lo spazio a tutti, nessuno escluso, e trovate anche la mia email sul mio profilo Instagram per iniziare questo progetto insieme a me.